Let me tell you what we're going to do with a company called Herbalife. We're going to take this company customer by customer and we're going to take this company distributor by distributor and we're going to take Herbalife around the entire world. Herbalife Nutrition ha una storia straordinaria di cui siamo orgogliosi, nata dalla visione di Mark Hughes di volere una migliore alimentazione per tutti. Molti nel mondo condividono questa passione e continuano a rendere la nostra storia più forte e ancora più bella. Formula 1, Aloe Max, Tri-Blend Select. Vi chiedete mai come nascono prodotti come questi? Oggi visiterete il nostro primo laboratorio per la regione EMEA e Russia. Con sede a Thames Valley Science Park, nel Regno Unito, è un laboratorio di ricerca e sviluppo realizzato da una delle università migliori in scienza dell'alimentazione. È qui che creiamo i prodotti del futuro. Gli elevatissimi standard di qualità e la dedizione all'innovazione ci hanno resi famosi. Abbiamo grande esperienza grazie a un team brillante e dinamico di ricerca e sviluppo. Sviluppiamo concetti e li trasformiamo in campioni da testare. Lo facciamo con esperti qualificati e poi li condividiamo con i nostri team di leadership. Dalla produzione di microlotti all'approvvigionamento dei migliori ingredienti, creiamo prodotti iconici dal sapore unico, promuovendo un'alimentazione sana e complementare al vostro stile di vita. La nostra sensory zone ci aiuta a capire cosa fanno i nostri competitor. Così possiamo creare e darvi prodotti che sono eccezionali e migliori di quelli sul mercato. Siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro e per il ruolo che la differenza del distributore ha nel rendere realtà il sogno di Marco. Ogni volta che vendi i nostri prodotti puoi esserne fiero, perché creati con ingredienti eccellenti, selezionati e supportati dalla scienza. Mentre la vostra attività continua a prosperare potete contare su di noi per darvi quella che crediamo sia la migliore opportunità di business possibile al mondo.